La Luce Verna La Luce Verna La Luce Verna La Luce Verna E poi ho scoperto che ci sono medici sanitari che hanno saputo in questo momento così difficile e drammatico comunque garantire il diritto alla salute. Ed è con questo che auguro a tutti di riprendere una sana normalità. La Luce Verna La Luce Verna